Buon salve e bentornati su No Mamamazzo e Buon Natale! È la vigilia di Natale e vorrei parlare con voi del mio film di Natale preferito. Quindi andiamo subito dentro la rubrica Retro Movies perché è un film del 1988. Scrooge, titolo italiano S.O.S. Fantasmi, diretto da Richard Donner, lo stesso regista del primo Superman del 1978, ma anche di Goonies, di Lady Hawk, di Arma Letale 1 e 2, insomma un signor regista e con protagonista, un signor protagonista, Bill Murray. Prima di cominciare però, oltre ad invitarvi ovviamente ad iscrivervi al canale, a mettere un bel mi piace, a condividere il video con tutte le persone che amano il Natale, vorrei scusarmi per appunto non aver dato una regolarità di uscita ai video, durante questo mese, cosa che ho già detto all'inizio del mese nel mio videotrailer che ogni tanto metto nella mia pagina, nel canale YouTube. Appunto non sono riuscito a dare una regolarità di uscita, però ho comunque dato la stessa quantità di video che metto al mese, però non con regolarità e mi spiace molto, e mi sono concentrato solo su Crisi sulle Terre infinite. Volevo fare molti e molti più video sui film di Natale, ma ahimè sarà per l'anno prossimo, se ci sarò ancora nel mio canale. Continuiamo con il film. Allora, che vi posso dire? Il film si chiama Scrooge, quindi tradotto proprio letteralmente sarebbe Scroogeato, cioè una persona che ha subito l'effetto di Scrooge. Scrooge è Ebenezer Scrooge, ovvero il protagonista del romanzo di Charles Dickens, Canto di Natale, che presumo tutti voi conosciate. Quello che magari la maggior parte di voi bambini o bambini dentro conoscono è il Canto di Natale di Topolino, che mi dispiace, io non l'ho mai visto. O forse ho visto una volta, ma non sono un grande amante della Disney, non me ne vogliate. Però ci sono anche tantissime altre versioni, ognuno l'ha fatto. Se guardate The Real Ghostbusters, c'è una puntata degli Acchiappa Fantasma, in cui si cita il Canto di Natale, nei cartoni animati di Ritorno al Futuro si cita il Canto di Natale. In ogni telefilm, probabilmente con un pochino di fantascienza, in ogni cartone animato hanno fatto questa citazione nella puntata natalizia. Oltre al film vero e proprio Canto di Natale, A Christmas Carol, del 2010, con Jim Carrey, il protagonista, ha fatto tutto in motion capture, in computer grafica, in CGI. Quello è davvero paro paro come il libro, al punto che con protagonista Jim Carrey io mi aspettavo di vederlo un attimino, un po' più frizzantino, invece è proprio come leggere un libro del 1800. Quindi è un attimino noiosetto. Però vi consiglio di vederlo, perché è un'ottima base per sapere qual è il materiale originale, oppure leggete il libro, e poi vi potete gustare al meglio tutte le mille, mille varianti che hanno fatto su questo racconto. La mia variante preferita è appunto S.O.S. e Fantasmi. Perché questo titolo così della minchia? Ma perché si sa che in Italia, soprattutto negli anni 80, negli anni 90, si è iniziato un attimino adesso a tradurre meglio i titoli, ma non sempre, si facevano dei titoli che non centravano per forza con il titolo originale, si facevano dei titoli per attirare lo spettatore medio al cinema, e lo spettatore medio al cinema che associa Bill Murray ai Ghostbusters, grandissimo successo di quattro anni prima, quindi del 1984, con quanto comunque dei fantasmi all'interno del film, hanno ben pensato di fare questo titolo un po' specchietto per le l'odore, e l'hanno chiamato S.O.S. Fantasmi. Quindi si va un attimino a perdere dal titolo l'intuizione che è ispirato a Canto di Natale, ma poi comunque dopo i primi 20 minuti lo si capisce. Se proprio venite da Marte o siete nati l'altro ieri, vi spiego brevemente che cos'è Canto di Natale. Canto di Natale parla di un protagonista che è un ricco industriale, nel film S.O.S. Fantasmi è una specie di Pier Silvio, nel senso che possiede un'emittente televisiva, comunque una persona molto ricca, che però durante la sua vita ha abbandonato tutti gli affetti, gli ha proprio trascurati lui, in favore del denaro, in favore della sua carriera, del suo ruolo di comando, se così vogliamo dire, perché gli piace, gli piace molto di più essere al comando, essere un uomo in carriera, essere ricco, che non essere circondato da persone che lo possono amare. Cosa succede? Che nella notte appunto della vigilia di Natale riceve la visita di un suo vecchio amico. Peccato che questo suo vecchio amico è morto da anni, è un fantasma, e questo amico gli dice attento che stai facendo la fine che ho fatto io, non fare la vita che ho fatto io, perché se no finisci come me, finisci in catene a vagare come fantasma. O peggio, di conseguenza ti consiglio vivamente di redimerti, di dare un pochino più attenzione al prossimo, di dare un attimino più attenzione alle persone quantomeno che ti circondano, che ti vogliono bene nonostante tu sei arido dentro. Quindi so che è una cosa un po' magari melensa, trita e retrita, ma sono sicuro che se vi immergete nella storia è più che mai attuale nel 2019. Questo fantasma, questo vecchio amico morto, gli dice guarda, ti dico che tu riceverai la visita di tre fantasmi che ti faranno un attimino cambiare idea. Il primo ti mostrerà il passato, il secondo ti mostrerà il presente, il Natale nel tuo presente senza di te perché tu non lo festeggi e il Natale che ci sarà nel futuro. Ovviamente questa persona arida di cui non gliene frega niente del Natale, figuratevi che cosa gliene può fregare di questa cosa, ma i fantasmi arrivano, questa persona comunque prende la strizza e proprio perché prende la strizza perché non c'è niente di meglio per far cambiare idea a una persona che ha perso da tempo i sentimenti che non fargli cagare sotto dalla paura, fargli capire che morirà, ricordargli che deve morire per fargli cambiare vita. Questo accade e il nostro carissimo Ebenezer Scrooge che è il nome del protagonista del romanzo si redime, cambia vita, torna tra i suoi cari, partecipa al pranzo di Natale, eccetera, eccetera, questo se proprio non avete idea di cosa sia canto di Natale. Perché mi piace Scrooge, perché mi piace così tanto S.O.S. Fantasmi che parla di una storia così classica, perché è grazie anche al regista, grazie anche a Bill Murray ha una comicità, una comicità, una commedia così tagliente, delle battute così taglienti, delle gag così taglienti che è spettacolare, parte col botto dall'inizio e ti tiene incollato alla tua poltrona natalizia fino alla fine. Io l'ho sempre visto in italiano, solo in italiano, questa sera me lo sono rivisto prima di fare la recensione, volevo vedermelo in inglese tanto per cambiare, ma sono davvero molto legato alle battute, al ritmo delle battute in italiano, quindi me lo sono rivisto ancora una volta in italiano perché ho il cuore in quel film, poi magari me lo vedrò anche in inglese più tardi. È molto molto bello, non è comico, è una commedia, la classica commedia brillante degli anni Ottanta che contiene sia la parte della storia d'amore, contiene la battuta, contiene l'emozione, perché è comunque un film natalizio, c'è l'emozione, c'è la famiglia, ma è un film non convenzionale, dato che a me piacciono le cose non convenzionali, mi piacciono gli ossimori, quindi mi piace questo film di Natale proprio perché è un attimino fuori dai canoni del classico film di Natale, poi dopo di lui sono arrivati i vari Babbo Bastardo, Babbo Bastardo 2, Elf, però nel 1988 è comunque una commedia davvero brillante a tema natalizio, perché tra l'altro porta la storia di Charles Dickens ai giorni nostri, anche se è dell'88, però diciamoci la verità, non è che adesso andiamo in giro con le auto volanti, quindi un film dell'88, quantomeno un film dell'88 fatto bene, è attualissimo, questo film non è invecchiato assolutamente male, quindi ve lo potete tranquillamente vedere e immedesimarvi, sicuramente vi potete immedesimare molto di più in un film del 1988 che non nel libro di Charles Dickens che è dell'Ottocento, di conseguenza vi consiglio caldamente di vederlo per immedesimarvi anche un po' in questo Francis Xavier Cross che è il nome del protagonista interpretato da Bill Murray, questo moderno Scrooge per farvi diciamo quello che si chiama un po' l'esame di coscienza, no? valutate un po' come avete passato questo 2019, questo anno trascorso, se siete stati un po' Scrooge oppure se appunto vi ricordate delle persone che amate, se siete più legati al lavoro, alla carriera che non ai vostri cari, ricordatevi che i vostri cari non ci sono per sempre che probabilmente se quest'anno non gli fate gli auguri di Natale magari l'anno prossimo gli auguri di Natale glieli portate sulla tomba tutte queste cose che comunque io non credo ci sia là fuori davvero un Francis Xavier Cross o un Ebenezer Scrooge che dir si voglia penso che tutti quantomeno Natale veniamo un attimino a patti con la nostra moralità con quello che fin da piccoli ci hanno inculcato come principi comunque di buona convivenza di moralità chiamatela come volete però appunto guardarlo guardarlo la vigilia proprio di Natale non tanto Natale ma proprio la vigilia è una cosa che vi consiglio caldamente perché vi porta diciamo ad aprirvi il cuore per il giorno dopo cioè per il Natale dove poi c'è tutto lo sfarzo c'è il pranzo con i parenti c'è tutte queste palle qua che avanzano ma diciamo che anche proprio in senso laico questo film soprattutto nel finale nel discorso che fa il protagonista nel finale ti apre la mente ti apre il cuore a quello che è il significato più importante del Natale potete essere credenti potete essere atti potete essere agnostici questo film anche perché è un film americano parla a tutti parla a tutti quindi gustatevelo ve lo consiglio davvero caldamente non è Natale se non c'è una canzone di Natale di conseguenza questo film ha la sua canzone di Natale che poi è entrata appunto nel repertorio delle millemila canzoni americane di Natale che è Put a little love in your heart metti un po' di amore nel tuo cuore canzone che vi metto qua in descrizione così ve la ascoltate vi metto anche proprio il videoclip con gli ispezioni del film così è come se vi dessi un po' il trailer di questo film magari vi incuriosisco e ve lo andate a vedere io parlo di questo film come anche se siamo nella rubrica retro movies come se fosse uscito ieri perché non è scontato che tutti conoscano questo film anche se in realtà è uscito più di 30 anni fa perché questo probabilmente non è così famoso quantomeno in Italia come può essere una poltrona per due come può essere Mammo perso l'aereo tutti quei o tutti quei vari cine panettoni nostrani Natale a Miami Natale a New York Natale in crociere eccetera eccetera che dir si voglia e quindi questo è un pochino più di nicchia ma il fatto che sia di nicchia mi dà ancora più gioia a parlarne con voi perché è come quando un amico non conosce una cosa e voi gliene parlate lo rendete parte di questo micromondo ecco questo è il mio regalo per voi di Natale se non conoscete questo film conoscetelo S.O.S. Fantasmi o Scrooge lo trovate anche in questo esatto momento se avete Amazon Prime Video lo trovate su Amazon Prime Video andate a cercare proprio col titolo originale Scrooge o S.O.S. Fantasmi lo trovate comunque c'è Bill Murray che fuma un sigaro e c'è una mano di uno zombie che gli accende il sigaro lo trovate subito ve lo consiglio caldamente vi do qualche ultima chicca da nerd l'attrice femminile protagonista è Karen Williams che è la stessa protagonista femminile del primo e del quarto Indiana Jones attrice bellissima se c'è qualcuno là fuori che assomiglia a Karen Williams mi chiami che gli offro una cena io adoro Karen Williams adesso c'è la sua età c'è 70 anni è tutta la bellissima invece una parte leggermente più piccola che è la segretaria di Bill Murray di Francis Xavier Cross la segretaria di Bill Murray è la stessa attrice che ha fatto Black Mariah nella serie tv di Netflix Luke Cage che poi è anche la stessa attrice che ha fatto una particina in Captain America Civil War tutto qui spero di avervi incuriosito abbastanza se avete visto il video la vigilia di Natale vuol dire che probabilmente non avete impegni nella vigilia di Natale quindi non avete la cena della vigilia di Natale probabilmente avete il pranzo di Natale il giorno dopo quindi vi auguro un buon pranzo vi auguro un buonissimo Natale un buonissimo Santo Stefano se invece avete visto il video diciamo indifferita comunque non l'avete visto la vigilia di Natale ciò non toglie che vi consiglio comunque di guardare S.O.S. Fantasmi o magari potete aspettare la vigilia dell'anno dopo per guardarlo ma non vi consiglierei di aspettare troppo come insegnano i fantasmi in questo film con questo è tutto io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi auguro buone feste grazie a tutti